Tesoro, guarda che cosa ti ho portato Finalmente! Era ora che mi portavi qualcosa di buono Eh però, stai calma Calma? Sai da quanto tempo i miei amici stanno aspettando un video del genere? Scusami amore mio, comunque ti ho preso una serie di patatine strane Fammi sapere poi se ti piacciono, ok? Patatine? Sì sì, ok, adesso puoi uscire, grazie Sì sì, vado, vado, ciao, ciao Wow! L'istruzione in italiano non ce ne sono, quindi mi fiderò del mio gusto Patatine di mais a gusto di fragola Non odorano di un cazzo, assaggiamo Popcorn caramellati a gusto di frutta, troppo buoni Vorrei finirveli tutti, ma ci penso dopo Massaggiamo Popcorn al cioccolato bianco con yogurt e aggiunta di lamponi Non mi dispiacciono Solo per il colore che hanno, sono le mie preferite Assaggiamo Piccantissime! Dopo tutto quel dolce, queste mi hanno guastato le papille gustative Fortuna che c'è una bevanda Arbici di MZH E mi è caduta dentro Bevanda dolce con pezzetti di gelatina di cocco Mi sa quali saranno le prossime cose da assaggiare? Intanto fatemi sapere nei commenti se avete assaggiato una o più cose che vi ho mostrato Ora vi saluto perché devo finire di gustarmi le mie Popcorn fruiti Ciao amici miei Ciao amici miei